Molto scenico, un po' diverso dal solito, fine pasto. Posso? Eccoci qua. Cosa mi hai portato? Questo è un dolce, ricordo di argenta, dolce che lo chef proponeva al trigamolo, ricordo perché lo proponeva al trigamolo ma adesso lo proponono in una versione nuova e moderna. C'è uno zabaione in doppia consistenza e doppia temperatura. Una parte classica montata a freddo accompagnata con della frutta fresca e gratinata leggermente in superficie con dello zucchero a velo e una parte invece cotto nell'azoto liquido che si cuoce a meno 197 gradi e sforma una meringa ghiacciata da spezzare tra temperatura ambiente e freddo. sempre per il gioco caldo e freddo per ripristinare le famiglie gustative. E quindi questo è un dolce stellato? E' un dolce stellato. Ma quant'è che c'è l'idea? Grazie. Prego.